Ribelle La giovane principessa Merida è figlia di Re Fergus e della regina Elinor e ha tre fratelli, i gemelli Eris, Hubert e Amish. Elinor pensa che una principessa dovrebbe imparare la musica, essere elegante e garbata, ma Merida è una ragazza vivace. La principessa adora cavalcare nelle foreste con il suo cavallo, Angus, ed è bravissima a tirare con l'arco. Un giorno Elinor dice a Merida che presto dovrà sposarsi. I giovani di alcune importanti famiglie hanno chiesto la sua mano, ma Merida non vuole un marito. La principessa dovrà sposare il vincitore di una gara di tiro con l'arco e solo il figlio maggiore di ogni famiglia può partecipare alla sfida. Ma quando uno dei guerrieri fa centro, Merida esclama Io sono la figlia maggiore della mia famiglia, parteciperò alla gara e Merida vince, facendo tre tiri perfetti. Elinor la sgrida Se rifiuterà di sposarsi, metterà a rischio la pace nel regno. Offesa Merida, squarcia la razza di famiglia per separare la sua immagine da quella della madre Io non sarò mai come te, grida Poi, piangendo, la principessa fugge dal castello e raggiunge un luogo misterioso dove vive una strega Merida spera che la strega possa aiutarla con la sua magia Se mia madre cambiasse, tutto sarebbe perfetto, spiega la donna La strega sorride, perché sa come aiutare Merida Basterà che assaggi un dolce magico, uscito dal suo calderone Una volta tornata a casa, Merida fa assaggiare il dolce a Elinor e ben presto l'incantesimo comincia a fare effetto Come la strega aveva promesso, la regina è cambiata ma è diventata un orso Se Re Fergus la scoprisse, le darebbe la caccia Così, con l'aiuto dei fratelli, Merida fa uscire la madre dal castello Vuole chiedere alla strega di spezzare l'incantesimo Ma la strega è scomparsa e lungo il cammino, madre e figlia trovano un'antica rovina È la Tana di Mordu, un orso feroce Mordu si lancia su di loro Elinor però riesce a portare in salvo Merida La principessa ora sa di dover chiedere perdono e ricucire l'arazzo Spera così di spezzare l'incantesimo Anche Elinor ha capito di aver sbagliato Merida deve essere libera di fare le sue scelte, come tutti Insieme tornano a casa Ma al castello le due si imbattono in Re Fergus che sguaina la spada e fa fuggire l'orsa E i guai non sono finiti Anche i tre fratelli di Merida sono diventati orsi perché hanno mangiato un po' del dolce magico La principessa deve fare presto Perciò cuce l'arazzo mentre cavalca in cerca della madre Non sa che sta per finire tra le grinfie di Mordu Per fortuna Elinor riesce a difendere la figlia e a sconfiggere Mordu ma è ferita Allora Merida la copre con l'arazzo e l'incantesimo svanisce Elinor e i gemelli tornano a essere quelli di prima Tutti d'ora in poi si vorranno bene così come sono Fine Allora Merida la copre con l'arazzo